ebay analisi mensile agosto 2020 allora titolo anche questo di e-commerce forse probabilmente il più famoso in assoluto che poi vabbè nel senso è stato un po' soppiantato in popolarità e in risultati da Amazon però diciamo che possono essere anche considerati un po' diversi come tipologie di modalità vediamo il grafico il grafico è un grafico che appunto parte dal 2005-2006 ma possiamo farlo partire anche da un po' prima è stato quotato appunto nel 98 quindi questo è un titolo che ha una storia lunghissima in borsa quindi si parla praticamente di più di 20 anni 21-22 anni ha sempre mostrato vedete a parte i periodi del 2007-2008 ha sempre mostrato una crescita molto valida molto buona dal 2009 è cresciuto ha avuto un paio di tentennamenti vedete no? cioè c'è questa parte qui c'è questa parte qui diciamo tra il 2013 e il 2014 in cui il prezzo rimane in una fase di equilibrio poi abbiamo un paio di mesi di storno e poi abbiamo questa candela del 2016 luglio 2016 che apre sui minimi chiude praticamente sui massimi che dà segno a questo rialzo rialzo che poi viene alternato da diversi mesi quasi un anno direi 1,2,3,4,5 sì più di un anno di ribassi prezzo che dà 47 dollari torna fino praticamente a 26 dollari e poi abbiamo di nuovo rialzo swing ritorno sulla stessa area ritest quindi di quest'area di 26 dollari classico tipico può succedere spesso anche sui time frame più bassi e poi rialzo fenomenale nel periodo del covid perché chiaramente poi con il covid con tutta la gente in casa questi diciamo siti di acquisti online e di consegne a domicilio hanno avuto un'esplosione enorme vediamo quali possono essere quindi le fasce di prezzo interessanti e sicuramente un'area una fascia insomma questa questa fascia di prezzo qui diciamo questa che ma anche qui sotto diciamo può essere considerata quindi direi la segnerei in questo modo io ecco la segnerei in questo modo perché ve lo faccio vedere subito strecciamo un attimo il grafico siamo dalla parte alta di dove la candela è esplosa quindi sopra questa spike ricordatevi sempre che io ritengo fondamentale e valorizzare quelli che sono gli aspetti grafici evidenti cioè senza facendo un po' di didattica anche da questo punto di vista uso il grafico pulito perché ritengo che il prezzo contenga in sé tutte le notizie fondamentali a me utili allora come dicevo dobbiamo attestarci su elementi grafici inequivocabili indiscutibili cosa vuol dire? vuol dire che tutto quello che io determino che sia importante lo deve essere anche per una persona dall'altra parte del mondo davanti al grafico come me nello stesso modo quindi è evidente che questo sia un massimo per me un massimo assoluto e lo è anche per qualsiasi altra persona dall'altra parte del mondo è evidente che questo massimo di swing sia importante come questi minimi e così deve essere anche per un altro trader che opera dall'altra parte del mondo quindi quest'area di massimi comprati e questa è sicuramente un'area importante e vedete come tra l'altro vedete come se io prolungo questa area qui qui aveva fatto praticamente da tetto ok a tutto questo rialzo per diversi mesi poi qua era stata rotta qua era stata di nuovo rivenduta e poi qui dopo diversi mesi in cui il prezzo non riesce a rompere esplode però vedete come quest'area qui faccia da pavimento fermi questo movimento importante di diversi mesi sul ritorno di area 25 e 26 e poi proprio due anni dopo succede la stessa cosa con questa candela del marzo del 2020 che vende i minimi subito sia di febbraio e gennaio vende tutti questi minimi precedenti e si ferma proprio in area 26 qua ci sarebbe stata una bellissima operazione il riassorbimento di questo livello quindi possiamo anche vederlo a un secondo quindi sicuramente provare a comprare il riassorbimento di questo livello avremmo avuto ecco in questo caso avremmo avuto uno stop pressoché inesistente quindi 0,84 1% con un target che poteva tranquillamente essere posizionato su questo massimo di swing ad essere prudenti ci avrebbe dato un rendimento del 60% per chi avesse deciso di non volerlo tenere altro target poteva essere questo massimo di swing il 78% perché poi chi invece decideva di tenerlo avrebbe oggi un rendimento del 100% quindi investo 1000 euro e ne ho 2000 ok spostiamoci un attimino quindi leviamo un secondino questa operazione e vediamo adesso la situazione attuale quindi da marzo in poi grafico che ci mostra come le candele di aprile maggio giugno e luglio abbiano comprato pesantemente la candela di aprile è quella che forse meno ma abbiano comprato pesantemente massimi dei mesi prima non solo la candela di maggio compra anche questi massimi di swing scusate questi massimi di swing precedenti la candela di giugno compra anche questo massimo quindi non diventano neanche questi livelli dei target pur essendo dei livelli graficamente importanti ma vengono sbaragliati e comprati pesantemente con la candela di luglio vengono praticamente segnati i massimi assoluti del titolo in area 60 61 cifra tonda che io amo tanto ma il prezzo viene respinto fino ad area 55 qui diciamo che sicuramente qua su quest'area qui ci sono state un pochettino di prese di profitto il mese di agosto è un mese che si sta pronunciando abbastanza fermo sembrerebbe siamo all'8 agosto quindi c'è tempo però vedete come la candela di agosto ancora non ci dica praticamente nulla è normale dopo questo diciamo allungo è normale un po' di rifiatamento cosa dire sicuramente un livello dove non comprare il titolo e livello che ci dice ci suggerisce di aspettare quale livello beh sicuramente sicuramente questo è il livello migliore anche se siamo chiaramente in questo momento distanti però questo rimane il livello migliore su cui riposizionarsi ma potrebbe essere un livello intermedio interessante anche quello dove la candela compra questi massimi quindi questo livello qui io anche qui identificherei una fascia che va da questo massimo al massimo della candela del mese precedente quindi qui quindi l'area che va da 42 a 40 40 addirittura di nuovo la cifra tonda potrebbe essere interessante da comprare ed acquistare in riassorbimento ci possono essere dei livelli intermedi ad esempio anche questo dove viene comprato il massimo di questa candela 46 52 lì dipende sempre noi valutiamo livelli importanti per un discorso di investimento sul lungo periodo quindi poi è chiaro che volendo operare su time frame più bassi anche in dimensione intraday e quindi più di breve si possono andare a trovare tanti altri livelli nello stesso modo con la stessa modalità con cui lo facciamo sul mensile quindi sicuramente che cosa facciamo aspettiamo aspettiamo cosa ci dice il mese di agosto ed eventualmente anche il mese di settembre se già ad agosto non succede qualcosa di straordinario con gli indici chiaramente comunque sui massimi vediamo però direi che identifico in questi due livelli in questi tre forse il primo è una fascia che va da 42 a 40 io sinceramente probabilmente aspeterei proverei a aspettare 40 e poi chiaramente questa più bassa a 25 non vedrei altri livelli nell'ordine del grafico mensile quindi vediamo i prossimi sviluppi che cosa ci suggeriranno grafico Grazie.